Con la firma del sindaco Claudio Pedrotti per il Comune e del presidente del COA, Nino Geronazzo, ieri nella sala giunta della sede municipale si è formalizzata la convenzione tra le due parti per la gestione organizzativa dell'87esima donata Alpini 2014. All'atto della firma erano presenti il presidente provinciale dell'ANA, Giuseppe Gasparette, e l'assessore Bruno Zille, che per la donata coordina le attività, il personale del Comune ed esplita le funzioni di ufficiale di collegamento con il COA. Con questa convenzione si determina cosa fa l'amministrazione comunale, cosa fa il COA e in che termini vengono regolati i due enti. E se non altro all'interno della convenzione c'è anche ovviamente l'importo che viene definitivamente devoluto al COA di 240.000 euro di cui già l'amministrazione lo mette a disposizione. Credo che questo significa che è stato fatto un grande lavoro di coordinamento tra l'amministrazione e il COA proprio per poter dare quei massimi risultati per quanto riguarda la donata alpina. Contiamo con questa operazione di, oltre all'impegno della città, che possa essere anche tutta la nostra cittadinanza, ovviamente impegnata in questa grande iniziativa, se non altro per accogliere tutti i nostri alpini e perché possano apprezzare l'accoglienza di questa città ma anche tutte quelle che sono le cose belle che essa rappresenta.